Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici Il Crusoe, benvenuti in questo brevissimo video con giusto due due notizie veloci veloci. La prima, come avete visto sul post di ieri di Enrico, il 28 settembre è la Notte Europea dei Ricercatori, quindi andate a cercare sui siti e sulle pagine Facebook delle università della vostra città maggiori informazioni su questa interessantissima serata. Enrico sarà per competenze territoriali ad Alessandria, mentre io me ne andrò come visitatore al CERN a Ginevra e cercherò di raccontarvi la giornata con foto, live e stories sul nuovissimo account Instagram della fisica che non ti aspetti. Account Instagram creato qualche giorno fa, per ora assolutamente vuoto e che utilizzerò proprio per cose come questa, cioè raccontarvi con qualche foto e qualche stories la fisica giorno per giorno. Anzi, voglio provare a proporvi una sorta di crossover tra i due eventi. Se andrete alla Notte dei Ricercatori come ricercatori o come visitatori, fatevi delle foto, fatevi delle stories e taggate la fisica che non ti aspetti. Penso sarà un modo bellissimo per cominciare a utilizzare insieme questo nuovo social. Cioè, questo nuovo account, perché Instagram in effetti è lì da un po'. Bene ragazzi, noi allora ci vediamo sulla pagina e sul canale e mi raccomando cominciate a seguire il nuovissimo account LaFisica che non ti aspetti. E mi raccomando, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate. Anche su Instagram c'era già la chimica, vero Ruggero Rollini? Grazie. Grazie.